Ciao Emanuele e benvenuto nell'Arial Pizzo. Benvenuto. Sei l'annessimo acquisto di questa finestra di mercato. Come mai hai deciso di vestire questi colori? Come hai deciso di venire a questo club? Ho deciso perché ero con Meleto l'anno scorso. Quindi ho venuto per aiutare e giocare perché amo la squadra. Sei un attaccante esterno con il fiuto per il gol. Come pensi di aiutare i tuoi nuovi compagni? Come pensi di aiutare i tuoi nuovi compagni? Penso di aiutare i tuoi nuovi compagni. Perché mi piace la squadra. Però mi devo aiutare con tutto il mio cuore. L'ultimo gol che hai segnato fu contro l'Arial Pizzo. Cosa pensi di questa squadra e cosa ricordi della partita? Cosa pensi di questo club? E cosa ricordi del episodio del tuo ultimo gol? Mi ricordo di molte cose perché l'anno scorso, l'anno scorso, l'anno scorso, è stato perfetto. E mi ricordo dei gol che ho scoperto. E mi piace anche il tuo gol. E' per questo motivo ho venuto qui per aiutare i tuoi ragazzi e giocare con te. E mi piace anche questo. E spero che i tuoi manager e il tuo team che ci aiutano aiutare a fare il nostro allenamento. E mi sarei felice. E mi piace anche questo. Vuoi mandare un messaggio ai tuoi nuovi tifosi? Vuoi dire qualcosa ai tuoi nuovi supportori? Sì, voglio dire che i supportori devono apprezzare e aiutare a aiutare a aiutare a aiutare a noi. Se non ci sono qui, noi non ci sono qui. Se non ci sono qui, non ci sono qui. Quindi devono aiutare a aiutare a noi e a continuare. E per ogni gioco devono venire a guardare e aiutare a aiutare a noi. E' quello che volevo dire. Emanuel, ti ringraziamo nuovamente buon lavoro e forza di Alpizzo forza di Alpizzo